bentornati ragazzi sul mio canale zoo pappagalli questi due uova che vedete qui appartengono alla mia coppia di inseparabili in precedenza avevo avevo fatto un video di cui ero molto contento perché la femmina aveva deposto il suo primo uovo dopo due giorni ne ha fatto un secondo dopo il terzo giorno un altro in totale ne avevo fatto tre uova uno si è rotto perché ogni volta che entravo a cambiare l'acqua a dargli da mangiare il maschio entrava di fretta nel nido entrando uscire si è rotto l'uovo dovuto tirarlo fuori manualmente dopo di che non li ho più disturbati gli ho dato cibo in abbondanza fatto in modo da non poterli più disturbare come dicono fino all'ventunesimo giorno all'incirca dopo di che ho dato un'occhiatina per vedere se era nato qualcosa ma niente tutte le mie speranze erano svanite perché ho visto che un uovo era schiacciato se vedete qui vedete un po' schiacciato mentre l'altro è completamente intero però per curiosità ho voluto dare un occhiatino come fanno tutti tramite la storcia del telefono ho notato che era vuoto e secco tra l'altro e la femmina continuava sempre a covare si è spiumato completamente per covare e alla fine mi hanno suggerito di tirare via le uova se no la femmina continua a covare inutilmente e niente alla fine ho tirato fuori le uova eccole qui le due uova però non sono più buone speravo in due cuccioli ma niente è così la vita sarà un'altra covata niente ragazzi per il momento è tutto ci vediamo per un altro video per un altro aggiornamento vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i nuovi video e gli aggiornamenti grazie ciao ciao